Arriva in esposizione al pubblico, ai musei capitolini, la mano del colosso bronzio di Costantino, ricomposta col frammento del dito proveniente dal Museo Parigino del Louvre. Il frammento della gigantesca statua finì nella capitale francese nel 1860, insieme a buona parte della raccolta del marchese Jean-Pietro Campana, celebre collezionista. Solo nel 2018 si è riusciti ad avere la conferma che il frammento fosse parte della statua, grazie al lavoro di una commissione congiunta italo-francese, la quale ha anche accertato che l'ultima documentazione che prova l'integrità della mano risale agli anni 30 del Cinquecento. Resta da accertare infine come il frammento sia scomparso dalla circolazione per poi riapparire nella prima metà dell'Ottocento nella collezione campana. Dei numerosi oggetti appartenuti al marchese, il Louvre conserva ancora oggi un altro frammento, in marmo, di una scultura raffigurante la Gens Claudia, nella quale si riconosce il volto di Marcello, designato alla successione dell'imperatore Augusto.